Palazzetto dello sport di Busca, primo giorno di lavoro, di preparazione per il nuovo Cuno Volley in vista del 2023-2024, siamo in compagnia di Jacopo Botto. Allora Jacopo, primo giorno di scuola, tu ne hai vissuti tanti, però penso sia sempre bello tornare in palestra, tornare a giocare con compagni vecchi e nuovi. Sì, è bellissimo, poi per noi quest'anno è stata una pausa molto lunga, quindi ho molta voglia di tornare ad allenarmi con i miei compagni. Un gruppo nuovo, ma ho visto ragazzi carichi, quindi sono contento e non vedo l'ora di fare questo primo allenamento. Immagino motivazioni altissime, anche perché la società penso abbia creato una squadra altamente competitiva per questo campionato, quindi immagino che gli stimoli sia per te, sia a livello di squadra, siano veramente tanti. Sì, come hai detto, la società ha creato una squadra molto competitiva, ma insomma non basta avere una squadra competitiva, quindi bisogna iniziare ad allenarsi bene da oggi. Sarà un percorso lungo, perché poi siano cambiate anche un po' la formula del campionato, quindi sarà molto molto lungo e quindi niente, speriamo insomma di ritornare ad essere competitivi. Con un allenatore nuovo, cioè il coach Battocchio, anche questa è una novità importante e sarà importante ulteriormente riuscire subito a trovare l'amalgama alla quadra. Sicuramente quella lì è un'arma in più, perché dobbiamo cercare di trovare subito il feeling tra tutti quanti, ma insomma credo che Matteo sia in grado di farci trovare il feeling giusto. Ultima cosa, che stagione e che campionato ti aspetti? L'ho accennato, però immagino che ci sia molto da scoprire in questa stagione. È una stagione complicata, insomma ci sono diverse squadre attrezzate, noi sicuramente vogliamo rimanere nel gruppettino di testa, sarà un campionato difficile, ma insomma lotteremo fino alla fine. Ultima cosa a livello personale, per te che sei uno dei superstiti della passata rosa, cosa significa rimanere ancora uno quest'anno? Bello, bello. È una cosa che insomma volevo. Mi ha fatto anche piacere che la società ha voluto confermarmi, quindi insomma adesso sono qua a disposizione e inizieremo da oggi a creare un qualcosa che ci porterà fino alla fine.